Il Vangelo di questa domenica ci racconta di una vigna, di una bella vigna, data in gestione a dei vignaioli che poi però si riveleranno essere degli assassini. Le parole di Gesù diventano parole tristi nel raccontare questa parabola, perché sta raccontando, sta narrando la storia del rapporto tra Israele e Dio. Dio è un Dio fedele, innamorato dell'umanità e l'umanità spesse volte è una sposa opportunista. La tentazione che da sempre coglie l'umanità nei confronti di Dio è proprio quello di ergersi autosufficienti, cioè di riuscire a fare a meno del proprio creatore. C'è molta dignità e molta cura in questo padrone che prepara la vigna per darla in affitto, per affidarla all'uomo, ai vignaioli e c'è molta arroganza in questi vignaioli che pensano di poter diventare i padroni compiendo appunto un omicidio. È sempre difficile per l'uomo riconoscere il proprio limite, è sempre difficile per l'uomo cogliere la propria condizione, la propria condizione di creatura. In fondo il peccato che da sempre segna l'esperienza dell'umanità è quella di ergersi a creatori. In questa parabola ci viene narrato proprio questo, il tentativo di questi vignaioli di diventare i padroni della vigna uccidendo il figlio, diventare quindi come il creatore. Questo, dicevo appunto, è il peccato che contraddistingue sempre l'umanità nel rapporto con Dio. Le parole di Gesù, quindi in questa parabola, sono parole tristi perché ricordano anche tutta la storia del popolo di Israele con Dio. Ancora oggi capita così. L'uomo tenta in ogni modo di rifiutare la propria condizione di creatura. Tutte quelle volte che tenta di manipolare il cosmo, tutte quelle volte che tenta di manipolare la vita, tutte le volte che tenta di manipolare la natura. Si ribella dunque alla propria condizione originaria di essere stato creato. Fondamentalmente il ribellarsi a questa condizione è essere delle persone irrealiste, cioè che non stanno dentro la realtà. Il Signore Gesù ci invita in questa domenica invece ad essere realisti, a scoprirsi creature, a scoprirsi persone fragili e bisognose dell'aiuto del proprio creatore.